Buongiorno a tutti, siamo qui con il primo episodio di Magequest, una modpack di FTB Adesso creiamo il mondo e lo chiamiamo Pirpignacco Ok, non ho mai provato questa mod quindi sarà la prima volta che la proviamo assieme Ok, ha caricato, abbiamo tre libri, adesso li controlliamo subito e abbiamo anche la mappa con i mob e anche gli animali Ok, in questo libro c'è un po' degli oggetti Ci sono anche delle altre cose sulla magia, non so bene Questo è il libro delle quest 10 quest Ok, cerchiamo di ricominciarne una Come si fa però? Ah beh ovviamente c'è il tasto open Ok I rewards saranno quando avremo completato il tutto Abbiamo da prendere un legno lavorato Ok Lavoriamo il legno Ed ecco fatto una parte della missione Ok, adesso prendiamo la terra Ok Ok, adesso me l'ha contato Adesso c'è da prendere dell'altra legna Non me la fa prendere la missione direttamente Ok Completata la missione Oh la musichetta Si potevano impegnare un po' di più Ok, nuova missione Uccidi una mucca Spero ci siano delle mucche qua intorno Intanto che cercavo le mucche mi sono anche fatto qualche utensile Come il piccone Ho preso un po' di pietra Mi sono fatto il piccone La spada E Le lascio Adesso abbiamo appena ucciso una mucca Quindi Diamo La quest Finita E adesso c'è una nuova A questa Ah La pietra l'ho già presa E adesso ci sono parecchie nuove queste Questa è roba di magia Che non so cosa sia Ma penso si trovino Con i fiori che ho visto Che sono nuovi E ho trovato dei polmoni Wow Ho trovato anche un po' di fiori Ma continuo a non trovare quelli delle quest Sì ma quello Cos'è Shrek Abbiamo trovato Shrek Su Minecraft Aiuto Non mi piace molto Via dalla sua palude Continuo a non trovare i fiori che mi servono Però sta diventando notte Quindi Bene Questo primo episodio Di Mage Quest L'abbiamo passato Spero di trovare i petali giusti Ad un prossimo episodio Well The years start coming And they don't stop coming Fed to the rules And I hit the ground running